Tieni per firmo che tu non sei mortale, ma codesto tuo corpo, scrive Cicerone nel sogno di Scipione. Tu infatti, aggiunge, non sei quello che indica la tua forma esteriore, ma ciascuno è ciò che è la propria anima, non la figura fisica. Sappia dunque che tu sei un Dio, dal momento che è divino colui che ha potenza, capacità di intendere, di ricordare, di prevedere, che regge, governa e muove codesto corpo a cui presiede, al modo stesso che quel Dio supremo regge questo mondo. E come quel Dio muove il mondo che è in qualche sua parte mortale, così l'anima eterna muove il corpo corruttibile. Nel corso dei millenni, nelle diverse culture e religioni che hanno caratterizzato la civiltà umana, sono stati attribuiti nominativi diversi per identificare la parte divina presente nell'uomo e nell'universo. Gesù la chiamò il Padre che è in me, San Paolo la definì il Cristo che è in noi, Socrate l'ospite ignoto, i Pitagorici la chiamarono Monade, gli Orientali il Divino Sé, l'Io Reale, l'Anima Eterna, i Neoplatonici Rinascimentali, da Marsilio Ficino a Giordano Bruno, la definirono Anima Mundi, gli Stoici, da Seneca a Marco Aurelio, il principio divino che è in noi, gli scienziati come Albert Einstein, l'Atomo Permanente e molti altri filosofi e saggi usarono le espressioni Spirito, Scintilla Divina, il Soffio Divino, l'Io Spirituale. Tante espressioni diverse che hanno tutte lo stesso significato, la presenza di Dio nell'uomo e nell'universo. Nell'Arsamandi Ovidio scrive, vi è un Dio in noi e noi abbiamo relazione col cielo e dalle etere esidi a noi discende l'ispirazione. Chi vede Dio nel proprio cuore lo vede anche fuori, ha scritto Ramakrishna, chi non trova Dio in se stesso non lo troverà mai fuori di sé, ma l'uomo che avrà visto il Signore nel tempio della propria anima lo vedrà pure nel tempio dell'universo. Riconoscere la parte divina presente nell'uomo ed identificarsi con essa è la sola via in grado di risvegliare l'essere umano dal sonno dell'ignoranza, nobilitarlo, renderlo migliore e farlo uscire dalla gabbia entro cui l'esistenza materiale lo conduce. O ciechi, il tanto affaticar che giova, scrive Petrarca, tutti tornate alla gran madre antica e il nome vostro appena si ritrova. Tutto ciò che l'uomo compie di malvagio ai danni di sé stesso e del prossimo è causato dalla sua ignoranza, dalla sua incapacità nel vedere in sé stesso e negli altri la divinità che compene tra lui e l'intero universo. Se l'uomo infatti vede sé stesso solo come bestia, come potrebbe percepire sentimenti di amore nei riguardi di un suo simile, dal momento che per lui anche gli altri uomini non saranno che altrettante bestie? La maggior parte delle nostre mancanze, ha scritto San Francesco di Sales, è causata dal fatto di dimenticare facilmente la presenza di Dio in noi. Rammentare che Dio è presente in ciascuno è la sola spinta, più forte di qualsiasi altra legge scritta, in grado di farci agire nel bene, facendoci sentire impossibilitati a mancare i propri doveri, a disobbedire alla legge fondamentale dell'amore. Il Tempio di Dio è santo e noi siamo questo Tempio, ha scritto San Paolo. È stato scritto, il Regno di Dio non viene con appariscenza, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco il Regno di Dio è dentro di voi. Non è necessario innalzare le mani verso il cielo, né scongiurare il custode del Tempio che ci consenta di accostarci al simulacro di Dio per essere meglio ascoltati, ha scritto Seneca nelle lettere all'Ucilio. Dio è vicino a noi, è con noi, è dentro di noi. Uno Spirito Santo risiede in noi, osservatore, custode delle nostre azioni e noi dobbiamo vivere con gli uomini come se Dio ci veda e parlare con Dio come se gli uomini ci ascoltino. Uomo buono senza Dio non è nessuno. Nessuno può, senza l'aiuto di Dio, innalzarsi sopra la fortuna.